Sono oltre 150 le componenti di un'auto al plasma, tecnologia applicata ad imballaggi alimentari nel settore biomedicale per modificare ogni tipo di tessuto e renderlo antimacchio o antibatterico, chiglie di navi per non far attaccare le alghe, protesi mediche, occhiali antigraffio, applicazioni infinite e Bari è l'unico centro in Italia ad avere un dipartimento, quello di chimica dedicato ad una tecnologia versatile e unica, eccellenza industriale pugliese. Bari ha il primato diciamo europeo, le applicazioni riguardano tutti i prodotti solidi industriali, in pratica ogni prodotto industriale perché sia solido avrà delle superfici e queste superfici possono essere modificate in modo da migliorarne le funzionalità. Il professor D'Agostino, esperto internazionale su quello che viene considerato il quarto stato della materia, ne ha parlato a Bari in un incontro organizzato dalla Confapi BariBat. Per le imprese può fare un'enorme differenza. I vantaggi sarebbero quelli di battere la concorrenza. Se le aziende pugliesi sfruttassero una tecnologia locale avrebbero il grande vantaggio di portarsi all'avanguardia. Obiettivo della Confapi è creare un distretto industriale del plasma in Puglia. L'obiettivo di questo progetto è creare un distretto regionale in cui tutte le aziende possano intravedere in questa nanotecnologia un elemento di innovazione tecnologica.